C'è gente che mi ha chiesto, sì ma io non conosco come funziona Google Drive. Google Drive è semplicissimo, se avete un'email di Google ce l'avete automaticamente. Non so, nei casi in cui uno non usa normalmente un'email di Google, se è semplice la questione. Comunque, insomma, più o meno tutti ormai abbiamo venduto l'anima a Google e quasi tutti abbiamo un'email di Google. Allora, quello che dovete fare è andare a, una volta che siete entrati nella mail, andate a Google, fate clic qui, vedete Drive, fate clic su Drive e automaticamente entrate nel vostro Drive. Questo è il mio, ci sono già diverse cose, andiamo a questo, che è il nostro progetto. Se io voglio, per esempio, se io voglio caricare un file in questa cartella, faccio New, File Upload e vado a prendere quello che devo prendere. E lo carico, è abbastanza veloce, se devo, invece, voglio aprire un documento per scrivere, vado sempre a News e lo creo, mi dirà, guarda che questo documento è condiviso, gli do un nome qui, nome, cancellare, e poi scrivo, bla 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 bla. La cosa interessante, per esempio, quando si fa, io lo uso molto per quando si creano documenti assieme, o magari si fanno discussioni su un tema, per un progetto, credo che sia più funzionale di una mail, perché resta tutto lì, condiviso, allora io posso, per esempio, fare suggesting, e quando io scrivo qua, qui metterò, per esempio, il mio commento a quello che ha detto il compagno, e si può creare qua sotto una discussione legata a questa frase, a questa proposta, a questa cosa. e niente, secondo me è geniale, e avete tantissimo spazio anche, e niente, e avete questi documenti accessibili da qualsiasi computer. Ok? Va bene, ciao!